Io sto per sbloccare! Io ho dovuto mettere il peso perchè Andrea è allergico! 2, 4, segno della croce! 3, 2, calmino! L'altro uomo li mettono qua! Se è bello che mi metti spalma su tutto! Eh! Eh! Prendi, muoviti! Dai, basta! 3, 2, 1, segno della croce! Bene! Via! Festa, f*****! È mio! F*****! E' il f*****! È pure pi*****! Ah! Ah! C'è il f*****! ma facciamo che l'ultimo che finisce per la penitenza quello che non mangia, che mangia di meno e qua se la mangiamo tutta? la mangiamo tutta allora a tempo a tempo, a tempo si finisce la prima vince ragazzi è cascato il condimento sono state che non so io? eh? volevi volevi non è buon mio non è buon mio non è buon mio, non è buon mio non è buon mio non provo a ricordarlo al pubblico ah che cos'è? ah ragazzi, ragazzi non ci sono mostri no 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 ragazzi no no ragazzi c'è un pazzoletto ragazzi c'è ancora le bombole per il pesco dove arrivava? buono bombole yogurt ho fatto tovaglio per favore no no mi è arrivata una contaminazione di fagioli ecco no 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 Grazie a tutti.